Simone ha fatto anche un lavoro di sintesi per cui lo ringrazio, ci ha anche elencato i quattro panel da cui partiamo per questa edizione. Il primo è dedicato alla governance e quindi chiedo a Simone di restare con noi come ogni anno State of the Net è una conversazione quindi il divano ci sembra sempre più adatto per chiacchierare. Invito oltre a Simone il CEO di IBM Italia Enrico Cereda e il Managing Vice President per il settore pubblico di Gartner Andrea Di Maio. Allora governance pubblica e governance digitale in questo momento possono quasi sembrare un'esagerazione parlare di governance perché sembra che di tutto abbiamo bisogno meno che di governance perché abbiamo in Italia. Ci concentriamo sull'Italia poi possiamo anche ovviamente le esperienze di ognuno potranno servirci ad andare oltre. Ma in Italia abbiamo un'agenzia per il digitale, abbiamo un commissario straordinario per il digitale, abbiamo dal punto di vista politico comunque le scelte che i vari ministeri possono fare in tema di infrastruttura, in tema di politiche e poi quando parliamo di digitale dobbiamo intenderci, dobbiamo anche scegliere il settore su cui andiamo a parare perché potremmo parlare di rete, di infrastrutture oppure potremmo parlare di regolamentazione dell'e-commerce oppure potremmo parlare, non lo faremo oggi, di finanziamenti alle imprese digitali che nascono, alle start-up per cui l'Italia è in un ritardo quasi imbarazzante. Partirei dal privato perché abbiamo sentito da Simone Puksic il punto di vista della società in house, di una società in house pubblica che lavora come priorità per il cittadino e per la pubblica amministrazione. Che cosa vuol dire lavorare in un sistema Italia, Enrico Cereda, che ha troppa governance o ne ha troppo poca? Ma secondo me non è un tema di governance oppure no. Io ho ascoltato l'intervento di Simone prima e ha parlato, ha utilizzato delle parole abbastanza chiare. Tutti noi possiamo essere nodo del cambiamento. Ecco, non dobbiamo lamentarci come siamo messi nel ranking internazionale, se siamo al 25esimo posto su 28, piuttosto che il governo non hanno attenzione particolare sul digitale o meno. Tutti noi possiamo fare qualcosa, tutti noi possiamo fare la differenza. Noi come aziende private abbiamo l'obbligo di farlo, a mio avviso, insieme naturalmente all'istituzione e a tutte le aziende pubbliche e dobbiamo farlo sia attraverso le forme associative che abbiamo, ma sia anche come singola azienda. E qui in Italia abbiamo tantissimo da fare. Abbiamo tantissimo da fare, però abbiamo tanti talenti che tutto il mondo ci invidia, i famosi cervelli in fuga che a volte riportiamo a casa, ma che a volte invece spesso, volentieri rimangono fuori della nostra nazione. Ecco, abbiamo tantissime cose, dobbiamo rimboccarci, guardare non agli specchietti retrovisori, quindi al 25esimo posto su 28, ma guardare avanti, davanti alla nostra strada. E solamente guardando avanti abbiamo, a mio avviso, tante possibilità. Il digitale può essere una leva fondamentale, fondamentale in qualsiasi campo. Io oggi sono venuto qui a Trieste dopo tantissimi anni, ho trovato una città bellissima, che forse probabilmente pochi conoscono. Ecco, il turismo in Italia ha la possibilità veramente di esplodere, sta andando bene, abbiamo visto gli ultimi dati, certo, ma probabilmente ha la possibilità di esplodere grazie anche al digitale. Ma non solamente il turismo, pensiamo a tutto al tema culturale, pensiamo a tantissimi campi dove il digitale potrebbe fare la differenza. Ma di nuovo, alla fine sta noi, dobbiamo toglierci quel modo di fare, ma se vent'anni fa se andava bene, bla bla bla, guardare avanti, guardare la potenzialità digitale, guardare la potenzialità che abbiamo come sistema paese. E se devo fare anche delle comparazioni, naturalmente c'è un lunghissimo dibattito su tutto il tema dell'intelligenza artificiale e quindi la perdita dei posti di lavoro. Ecco, anche qui, forse io spesso e volentieri guardo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Però se fossi la Cina, che nel corso degli ultimi anni ha fatto della mano d'opera a basso costo un punto di forza, sarebbe preoccupato. Ecco, l'Italia non ha mai fatto della mano d'opera a basso costo un punto di forza. Abbiamo sempre guardato, naturalmente al lusso, abbiamo sempre guardato dalle aziende di punta, di qualità. Ecco, l'abbinamento delle tecnologie, intelligenza artificiale, non la chiamiamo intelligenza aumentata, di nuovo potrebbe, come adesso spesso chiamo, potrebbe accelerare il nostro paese, potrebbe accelerare l'Italia. Dobbiamo crederci, dobbiamo creare sistema tra aziende private, tra associazioni, tra aziende pubbliche, tra in-house. E sicuramente l'aspetto del territorio è quello della farla differenza. Noi lo vediamo come IBM, esistono sì le grandi città come Milano-Roma, però alla fine quello che fa la differenza è essere presenti sul territorio, in una città come Trieste, in una regione come il Friuli-Nunizio-Giulia, così come tante altre regioni, ma è questo quello che fa la differenza, secondo me. Apprezzo lo spirito di toglierci delle scuse, no? Non dobbiamo aspettare... Alibi. Esatto, alibi. Simone Puxti ci diceva, siamo noi il ministro, non posso nemmeno eludere, anche da giornalista, la domanda che ci stiamo facendo in realtà in queste ore, c'è un nuovo governo, un governo che, per quello che si vede, non ha parlato ancora molto di digitale, quali sono, lo chiedo sempre a Cereda, le priorità, quali sono invece quelle mosse che il governo potrebbe fare? Allora, naturalmente non mi esprimo sull'agenda del governo, i rappresentanti che oggi sono il governo sono stati eletti dal popolo, quindi voglio dire, hanno fatto la loro agenda in campagna elettorale e questa agenda è stata votata, no? Certo. Però, ripeto, non dobbiamo basarci, a mio avviso, solamente sulla parte del governo, dobbiamo tutti, di nuovo, ripeto un po' me stesso, dobbiamo tutti rimboccarci le maniche, guardare avanti, affiancare anche, naturalmente, il governo, i rappresentanti governativi in questa fase, perché probabilmente ne hanno bisogno, ne ha bisogno il sistema paese, e solamente creando sistema, fare una call to action, l'ho dato scorsa settimana a un convegno, fare una call to action tra i vari rappresentanti per portare avanti certi temi innovativi. E di nuovo, da questo futuro, nei prossimi 24-48 mesi, secondo me, un paese come l'Italia può solo guadagnarci, a mio avviso. Naturalmente dobbiamo lavorare bene, dobbiamo non guardare dietro, ma guardare avanti, far leva sulle nostre potenzialità, che sono immense. Io ho avuto la fortuna di lavorare un po' di anni all'estero, sì, lavora bene all'estero, però poi si apprezza sempre questo paese, questa nazione. Quindi, mettiamo insieme le competenze, i talenti, l'orgoglio di essere italiani, a mio avviso, e mettiamoci assieme per migliorare questo paese. Però non guarderei troppo, anche qui, quello che fa non fa il governo, perché alla fine ricadiamo sempre nel concetto dell'alibi. Chiaro. Qual è il... Andrea Di Maio, non sei un parente, dobbiamo chiarirlo così... No, perché il governo Di Maio può sembrare... No, ho controllato. Il tema della mano pubblica e della mano privata è comunque un tema. Quando parliamo, Cerreda diceva, scriviamo noi privati implicitamente, pur senza scriverla, ma con i fatti rendiamo chiara un'agenda per il paese, e poi il paese ci verrà dietro. Quali sono... Voi, Gartner, studia in tutto il mondo i modelli e le organizzazioni. Quali sono quegli alibi che ci dovremmo togliere? Qual è l'elemento che il paese ha o non ha, ma che lo frena ancora? Ma direi, innanzitutto, fare un'osservazione sulle classifiche. Noi siamo sempre stati molto, così, vocal, come si dice in inglese, sull'inutilità delle classifiche, che confrontano paesi con caratteristiche totalmente diverse. Infatti si parla sempre dell'Estonia, che belle cose che fa, però è chiaro che il contesto in cui le hanno ottenute non è un contesto riproducibile quasi da nessun altro paese. Direi, guardando un po' in giro per il mondo, poi non siamo messi così male, perché si dice c'è chi ha l'agenda o l'agenzia digitale che magari ha fatto qualcosa, il GDS in Inghilterra, il 18F negli Stati Uniti con l'amministrazione precedente. Se uno va a guardare, tutte queste sono interessanti strutture, ci possiamo mettere dentro il ministro per il digitale, un'agenzia per quel che l'è, che serve a far partire il digitale. Raramente questi servono a far sopravvivere il digitale. Il problema che ha tutto il mondo, non soltanto noi, è che si può stimolare un'innovazione, è molto difficile mantenere e sostenere l'innovazione. Allora, qual è l'ingrediente che, e qui poi vengo d'Italia, ci permette forse di avvantaggiarci un po'? Buttiamo via la parola digitale, scordiamocela. Guardiamo il digitale come un mezzo, ma non un fine. Se uno ha un amministro per il digitale o una struttura digitale o perfino un budget digitale, vuol dire che il digitale diventa un fine. E quindi io devo assolutamente spendere questi soldi o spendere, diciamo, delle competenze per fare qualcosa digitale. Guardiamo invece a quali sono i problemi che affrontiamo. Noi siamo andati a vedere in giro per il mondo, e questo vale anche in Italia, dov'è che il digitale attecchisce e quindi la trasformazione diventa ripetibile. Dove ci sono problemi che non sono risolubili altrimenti. Quindi quando arrivo al punto di rottura, e noi in questo paese abbiamo fatto faville quando sembravamo persi, penso all'Expo, diciamo, io vivo a Milano, pensavo non ce la facessimo, adesso guardo a Milano, si è trasformata. Quando siamo in emergenza, riusciamo a tirare fuori il meglio di noi. Quando il digitale diventa non più un'opzione, ma una necessità, un mezzo indispensabile a quel punto. E quindi, tornando al discorso del dove deve essere governato, deve essere governato all'interno delle aziende, deve essere governato all'interno delle singole amministrazioni, chi si occupa di lavoro, chi si occupa di industria, chi si occupa di istruzione, deve utilizzare il digitale come un mezzo. E purtroppo la realtà, soprattutto in un paese come il nostro, è che dobbiamo arrivare vicini a quel punto di rottura, per carità, se la classifica inutile serve a farci sentire che siamo vicini a quel punto, ben venga. Però non ci sono ricette magiche, non c'è, diciamo, la becchetta che dice se tu costruisci un'organizzazione che chiami digitali e gli dai un budget, l'Italia avanzerà. Non funziona così in Italia come non funziona nel resto del mondo. Uno dei concetti chiave del lavoro che il team digitale che citavamo prima, il team digitale di Palazzo Chigi, uno dei concetti che loro ripetono sempre, ha a che fare con le fondamenta del paese, le fondamenta del sistema operativo paese. In Friuli Evidenza e Giulia, Simone, quali sono le esperienze che possono raccontare la trasformazione, in questo caso, dall'alto? Nel senso, se intendiamo come regione, ente pubblico e quindi in Ciel, dall'alto, quali sono quelle mosse che poi servono al resto della società a muoversi? Perché su alcuni temi, anche se l'abbiamo ripetuto, non è il punto avere il ministro, però bisogna essere molto cinici o se non altro laici. Tutti i paesi del mondo investono in infrastrutture perché non ci sarebbero privati che altrimenti farebbero quegli investimenti. Quindi, qual è l'esperienza che hai avuto tu negli ultimi due anni? Allora, ma direi che la parola chiave che risponde a quello che hai detto è coinvolgimento. È stato il coinvolgimento del territorio. Cioè, aver ascoltato quello che era la necessità del territorio, avendo ascoltato gli imprenditori che si occupano di digitale in Fliuli Venezia e Giulia, che hanno molte imprese, molti di loro sono qui oggi, molti sono amici, diciamo. Aver coinvolto la pubblica amministrazione in questo percorso, aver coinvolto i cittadini in questo percorso, penso all'agenda digitale regionale che è stato frutto di un percorso partecipato, anche molto articolato. E partendo dal presupposto che comunque la regione, Fliuli Venezia e Giulia, ha già degli asset infrastrutturali importanti, penso alla rete di connettività pubblica, che oggi è la più estesa rete a controllo pubblico in Italia e che serve tutta la pubblica amministrazione regionale, su quella rete di connettività abbiamo fatto dei pesanti investimenti infrastrutturali, il nostro data center di Trieste e da qualche mese anche quello di Palmanova, che è il sito secondario, è sicuramente un'eccellenza e su quel data center e su quel modello abbiamo costruito servizi molto veloci. Penso per esempio alla piattaforma che permette oggi a tutti i cittadini, già ormai da due anni e mezzo, di prenotare visite e esami specialistici direttamente dal proprio smartphone. È un servizio molto utilizzato e anno su anno registriamo un tasso di crescita molto importante che ha sempre la doppia cifra, 30-40% di crescita nell'ultimo triennio. Penso anche per esempio al portale dei servizi cittadino, portale dei servizi online, da cui tu puoi, in maniera molto semplice, e mi ritrovo un po' nelle cose che diceva prima Di Maio, in maniera molto semplice tu puoi, diciamo, semplificare la tua vita, puoi fruire di servizi in mobilità quando ti servono al bisogno in maniera molto rapida. Ecco, effettivamente il digitale non dovrebbe essere un fine, dovrebbe essere lo strumento che ti permette di semplificare la vita cittadino. Perché alla fine dei conti, noi tutti che siamo cittadini, il problema principale che viviamo, secondo me, è che molto spesso siamo in coda. Vivi le code. Devi andare a fare una qualsiasi pratica da qualche parte, e capita molto spesso, devo dire, capita poco in Friuli Venezia Giulia, e ti trovi in coda però. Quindi capita che sei in coda, no? E lì avere uno strumento semplice che ti aiuta a fare sviluppo, forse è la cosa che serve. Aver fatto un percorso di coinvolgimento nel territorio, secondo me, è stata la chiave di volta che ci ha permesso di fare il cambiamento. IBM, torno da Cereda, IBM ha una vastità di operazioni che hanno a che fare con la vita dei cittadini, perché pensiamo agli aspetti di sanità o tutto il lavoro che fate nella vostra storia, ma anche oggi con l'intelligenza artificiale poi si viene applicato a vari scenari. Quali sono gli esempi di collaborazione in Italia che vi rendono più orgogliosi e che indicano quel percorso che veniva citato prima, cioè quell'agenda non scritta che spiega come il Paese può funzionare? Noi, tra l'altro, questo evento è stato organizzato proprio una settimana in cui abbiamo concluso con IBM una settimana a Milano, in Piazza Gavolenti, una settimana dove abbiamo voluto portare l'innovazione in strada, in piazza. Quindi abbiamo iniziato il 5 giugno e abbiamo terminato l'altro giorno. Abbiamo iniziato, tra l'altro, con un inaugurato dove abbiamo posto l'attenzione tutta una serie di temi etici, ma non solamente etici, abbiamo dato anche a diversi personaggi quelli che ormai diventeranno sempre più una traduzione di Thinker Award e abbiamo continuato poi, durante la settimana, anche portando clienti, naturalmente condividendo alcune esperienze che stiamo facendo sul territorio italiano con moltissimi clienti. In ambito pubblico c'era sul palco l'altro giorno Inail, dove sta utilizzando il nostro sistema, ci piace ricordarlo, di intelligenza aumentata, non intelligenza artificiale, proprio per fare una differenza che non vogliamo sostituirci alla mente umana, ma vogliamo potenziarne le capacità. Abbiamo portato quindi Inail sul palco, dove è un sistema cognitivo che permette di navigare all'interno delle loro informazioni, di tutte le informazioni strutturate e non strutturate, e quindi gli dà tutto un supporto ai dipendenti dell'Inail, ma anche ai clienti. Abbiamo portato tantissimi, naturalmente, clienti privati, abbiamo portato Barilla, dove abbiamo parlato di blockchain, abbiamo portato Gruppama, dove stiamo facendo un bellissimo progetto sull'Internet of Things, oggi l'intelligenza artificiale è sì dei progetti di intelligenza artificiale, ma soprattutto è capire le potenzialità dei dati e poi metterli a disposizione sotto diverse forme. Quindi parliamo di blockchain, parliamo di Internet of Things, e naturalmente parliamo anche di Hybrid Cloud, qui abbiamo anche un famosissimo cliente proprio su Trieste che utilizza la nostra piattaforma, quindi abbiamo fatto tutta una settimana dove abbiamo raccontato queste esperienze. Inail, Gruppama, il già citato Barilla, tantissime altre realtà in ambito bancario, abbiamo diversi clienti sempre sul palco, avevamo l'altro giorno Credo Valtellinese che ha un assistente virtuale per navigare all'interno della banca, abbiamo annunciato ieri mattina, anzi l'altro ieri, oddio non mi ricordo più, ieri mattina, l'altro ieri, ormai tra un giorno e l'altro, l'altro ieri un importante partnership in un gruppo bancario dove trasformeremo tutta la loro infrastruttura in modalità Hybrid Cloud e naturalmente portando anche i sistemi cognitivi, quindi ci sono tanti esempi a livello italiano che naturalmente stiamo mutuando esperienze che abbiamo fatto all'estero, quindi queste esperienze che stiamo facendo a livello italiano non sono altro naturalmente che l'arricchimento di alcune esperienze che la corporation ha fatto alcuni mesi fa, alcuni anni fa negli Stati Uniti e oggi li stiamo portando nel mercato italiano. C'è molta domanda su questi sistemi e devo dire non solamente grandi aziende, ho citato adesso alcune grandi aziende ma ci sono anche tantissime piccole e medie aziende e addirittura chiudo poi ti lascio la parola quando parliamo poi di tutti questi strumenti che tendenzialmente sono modalità software as a service e quindi tendenzialmente il pagamento a consumo questo penso che sia un valore aggiunto per le piccole e medie imprese perché mentre prima certe tecnologie potevano essere a vantaggio solamente di grandi aziende avendo queste tecnologie comunque una peculiarità del software as a service del pagamento a consumo e sono tutte tecnologie che sono a disposizione anche le piccole e medie imprese ed essendo il territorio italiano un territorio fatto principalmente per fortuna dico io di piccole e medie imprese ecco che naturalmente queste piccole e medie imprese hanno l'opportunità di migliorare naturalmente tutta la parte di commercio con il commercio elettronico l'e-commerce noi un esempio classico Kayux hanno tutta una parte per migliorare la loro internazionalizzazione e quindi sono tutti strumenti a beneficio a mio avviso a maggior ragione per le piccole e medie imprese infatti sulle piccole e medie imprese stavo arrivando perché anche la platea di State of Net è fatta ovviamente di manager che lavorano in grandi gruppi ma anche poi di freelance agenzie più piccole come è fatto il nostro paese e quindi l'accenno sul modello economico secondo me è fondamentale capire che non sempre dobbiamo pensare al prodotto ma al servizio e quindi anche ad avere un modello economico una relazione con il cliente che è molto diversa so che adesso dal titolo del panel ci siamo spostati ma poi torniamo sul pubblico quanto capiscono le imprese italiane non le grandi perché appunto quando parliamo di IBM non voglio dire che è semplice però il confronto con la casa madre obbliga a un aggiornamento continuo e quindi è proprio il valore il valore è notevole e quindi stare al passo con i tempi è non dico che è facile però siete avvantaggiati da anni di storia e competenze invece una piccola una piccola impresa capisce che il mondo sta cambiando ma io mi occupo soprattutto di amministrazioni quindi le posso dire più che altro per sentito dire attraverso quello che vediamo credo che quello che manchi un po' in generale devo dire sicuramente nelle piccole aziende anche nella pubblica amministrazione è la cultura del dato cosa cui Torcereda accennava un attimo fa nel senso che quello che è diverso nel digitale è che il dato diventa la reale ricchezza e quindi GTPR a parte uno può usare il dato in modi tali che permettono di creare ricchezze in modi diversi ecco mi sembra che questa cultura fondamentalmente manchi ancora nel nostro paese manchi sicuramente nelle piccole aziende come manca nella pubblica amministrazione aggiungerei anche e questa è più una sensazione dal punto di vista di uno che ha girato tanto e quindi si confronta anche con contesti diversi qualcosa che citava all'inizio Pucsic la collaborazione non mi sembra che in Italia ci sia quella tendenza alla collaborazione fra piccola e media imprese che abbiamo visto in paesi tipo la Germania il famoso miracolo del nord est poteva essere un miracolo ancora più grande se ci fosse stata la tendenza a collaborare quindi non dimentichiamo e torno alla mia osservazione di prima sul contesto quando si fanno le classifiche l'Italia ha 8.600 comuni l'Italia è un insieme di entità disaggregate in cui ognuno sostanzialmente si fa i fatti propri questo storicamente non parlo della realtà di oggi confrontando con la Danimarca dove ce ne sono un centinaio di comuni è chiaro che il contesto è diverso questa logica di frammentazione amministrativa e anche frammentazione culturale qui il digitale forse può aiutare a superare questi ostacoli ma credo che l'Italia debba fare un grosso percorso e gli imprenditori delle piccole imprese debbano fare un grosso percorso per riuscire ad articolare il termine collaborazione vedevo Cereda che dissentiva quando Di Maio parlava delle voglio solamente una precisazione sul modello tedesco dell'innovazione quindi di tutte queste tematiche qui è un modello completamente diverso mentre il modello tedesco è trainato da grandi aziende Bosch Siemens BMW Daimler che naturalmente poi hanno capofila tanti fornitori piccoli e quindi le grandi aziende tedesche hanno avuto modo di rendere di dare l'innovazione tecnologica anche ai loro fornitori anche ai loro piccoli e medi imprese in Italia non abbiamo aziende di dimensione Bosch Siemens e soprattutto quelle automobilistiche quindi sono più aziende che lavorano all'estero piccole che hanno un diverso modo poi di collaborare con le grandi aziende però di nuovo a mio avviso qui non è che dobbiamo guardarci come è fatto il nostro modello o come sono fatti gli altri a mio avviso con l'avvento di tutto il progetto Industria 4.0 è nata anche nei piccoli medi imprenditori la consapevolezza che il digitale non è un'opzione è una questione di sopravvivenza o si vive con il digitale oppure si muore quindi secondo me c'è la consapevolezza in tutti che bisogna fare qualcosa quello che manca a mio avviso è il come farlo che è diverso però oggi qui vedo in sala Marco Icardi Agostino Santoni Stefano Venturi quindi aziende questo è il nostro obiettivo è il nostro compito quindi portare l'innovazione in queste aziende e guidare gli imprenditori o i manager delle piccole e medie aziende a utilizzare il digitale quindi questo a mio avviso è il nostro compito come aziende IT anche come parte associativa di guidare questi piccoli e medie produttori che nella maggior parte dei casi hanno e qui sono d'accordo con il dottor Di Maio anche probabilmente un gap culturale su queste tecnologie però di nuovo questo a mio avviso è il nostro compito e noi come manager di multinazionali o di aziende locali di informatica abbiamo l'onere di di portare avanti questa questa attività con le piccole e medie aziende chiaro abbiamo quattro minuti e sicuramente è il momento di guardarci attorno e vedere se c'è qualche domanda qualche qualche spunto sul quale non non ho sollecitato a sufficienza i nostri ospiti è la prima domanda dell'edizione di State of the Net quindi saremo sarete sicuramente timidi no possiamo avere un microfono qua davanti regaliamo il microfono grazie dunque io aggiungerei solamente questa cosa tutto quanto è stato detto e cioè il digitale Italia non è vero che non c'è c'è solo che è fermo lo dobbiamo mettere in moto ecco digital in motion questo deve essere il nostro motto per andare avanti come fare questa è la domanda come accendere il motore per restare sulle auto magari provo a buttarla lì torno a quello che ho detto all'inizio bisogna collegarlo ai problemi reali quindi è giusto che ci sia sacrosanto che chi si occupa di tecnologia informatica sia lì ad aiutare e sostenere ma una cosa è fornire soluzioni e altro aiutare i propri clienti e in certo modo poi lo si fa a capire quali sono i problemi che assolutamente necessitano una soluzione digitale sono d'accordo che tutti dicono il digitale è indispensabile se uno poi entra nel dettaglio e dice sì ok ma dove lo usi per primo lì cominci a essere un pochino più più in dubbio quindi guidare a identificare i problemi di rottura i problemi che sono di sopravvivenza che sono peraltro più difficili nella pubblica amministrazione ma molto più presenti nel privato credo che quello sia il numero uno perché quando sento che mi sta mancando la terra sotto i piedi forse allora mi comincio a muovere seriamente no sono d'accordo sono d'accordo in parte con Antonello mi dicete non so se fermo non fermo non guardiamo al presente al passato guardiamo avanti guardiamo avanti e tutti possiamo fare molto di più rispetto a quello che stiamo facendo per far crescere questo paese e per farlo crescere anche naturalmente con tutti gli aspetti del digitale secondo me sarà una questione di sopravvivenza nei prossimi mesi chi si adeguerà si adeguerà bene e naturalmente sarà capace anche di far leva sui aspetti del digitale dell'intelligenza aumentata eccetera dell'internet of things del blockchain chi non sarà capace di adeguarsi secondo me ci saranno problemi questa però è la mia è la mia vista e di nuovo a noi spetta il compito oggi tra l'altro non me ne voglia lei che non lavora solo 24 ore ma c'è un bellissimo articolo su sole 24 ore di Luciano Floridi che è professore ad Oxford che fa una comparazione del digitale con l'età del ferro ecco e alla fine di questo articolo tra l'altro invito a tutti a leggerlo è brevissimo ci si impiega 50 secondi ma è illuminante alla fine di questo di questo articolo parla anche che aspetta noi come generazione trentenni quarantenni o come sottoscritto cinquantenni fare quel passo e portare la società ad analogica a digitale ecco non aspetta il governo non aspetta qualcun altro aspetta tutti noi fare questo passo così come tantissimi anni fa è stato compito qualcun altro a gestire l'età del ferro questa è l'età del digitale è sicuramente un momento critico di transizione però chi se non noi ha questo compito di portare l'Italia l'Italia ma non solamente l'Italia nel futuro non mi offenderei mai perché Floridi è una grande lettura che consiglio a tutti non solo sulle 24 ore ma in generale grazie se ultima occasione per fare una domanda così sì là dietro le telecamere domanda è una considerazione per la mia esperienza professionale io non ho un'impresa però vivo la realtà di un'impresa che è in Siel e a mio avviso in questo momento c'è anche un'attenzione insufficiente per quelle che sono le professioni che possono aiutare la pubblica amministrazione a scoprire i propri problemi che nel mio caso considero sempre come opportunità opportunità per il business della pubblica amministrazione che deve essere aiutato a crescere con la sua riorganizzazione attraverso il digitale non so se ci sono o no avrei un commento visto che di amministrazione mi occupo è assolutamente vero il discorso delle professionalità di come cambiano di come la transizione digitale possa anziché sostituire valorizzare le risorse umane dentro l'amministrazione è assolutamente sacrosanto dei tanti esempi che vediamo in giro magari di cui non si parla tanto sulla stampa di grande trasformazione digitale le persone sono sempre protagoniste persone che cambiano il modo di lavorare persone che con coraggio affrontano problemi con strumenti diversi qui assolutamente importante credo che però in Siel stia facendo un buon percorso anche da quel punto di vista le posso aggiungere sono d'accordo non al 100% al 200% anche se dovremmo stare qua probabilmente fino a domani sera a parlare solamente di competenze perché questo è il problema probabilmente del nostro paese è un tema molto più grande è un tema che coinvolge naturalmente anche non solamente la pubblica amministrazione coinvolge anche le imprese coinvolge la scuola media superiore coinvolge l'università oggi siamo nella quarta rivoluzione industriale la differenza con le precedenti qual è? che le precedenti hanno avuto un impatto una durata di decenni questa ha una durata di mesi e quindi oggi le scuole la scuola superiore l'università non hanno il tempo e non hanno neanche le capacità di formare queste nuove competenze quindi questo è un tema fondamentale per il nostro futuro il tema di questo incontro è governance se parliamo di competenze probabilmente dobbiamo stare qua 24 ore oppure anche fino a tutto il weekend quindi è un tema prioritario secondo me non solo per la pubblica amministrazione ma per tutto il sistema paese quindi diciamo che se posso aggiungere ringrazio la collega Iginia che tra l'altro ha avuto la sponsorship sia di Cereda sia di Di Maio e Iginia è diciamo l'esempio della persona che crede nel cambiamento e lavora in Ciel e ha messo in evidenza esattamente l'aspetto fondamentale per noi le persone le competenze e parlo anche per la rete delle società in house che rappresentiamo con Assinter oggi sono la più grande rete di competenze digitali nella pubblica amministrazione abbiamo bisogno di trovare un sistema e penso che momenti come questo di oggi ci aiutino in questo per metterla a servizio del sistema paese cioè vogliamo che le aziende in house delle regioni delle province autonome ma tutti quelli che si occupano di innovazione digitale nella pubblica amministrazione tutti quelli come Iginia siano messi nelle condizioni di poter fare bene il loro lavoro e di poter tradurre in servizi più semplici in velocità non in anni ma in mesi in settimane quello che aziende come IBM ma anche come gli altri partner che sono presenti oggi hanno da offrire che sono tecnologie del futuro secondo me per chiudere poi passiamo al prossimo panel il punto vero che abbiamo siamo partiti dalla mano pubblica da chiederci che cosa doveva fare il pubblico alla fine forse la risposta che ci diamo è soprattutto investire sulla cultura digitale sulla formazione perché se tutto il resto appunto abbiamo sentito IBM dice lo facciamo noi lo fanno gli altri lo fa il privato forse quella parte quella parte di formazione delle persone nelle scuole è complicata da fare altrimenti quindi io ringrazio Simone Puxic Enrico Cereda e Andrea Di Maio era il primo panel di State of the Net quindi doppio applauso possiamo diciamo grazie a tutti